Eccoci alla quarta e ultima tappa del nostro viaggio alla scoperta dei corsi di specializzazione post diploma di Galdus, settore artigianato artistico o reficeria. L'orafo è uno dei mestieri più antichi e preziosi del mondo. Le tecniche sono molteplici e in continua evoluzione. Grazie alla partnership con l'importante azienda Pomellato è nata in Galdus un'accademia di alta oreficeria, un percorso di specializzazione completo della durata di tre anni. Avrai l'opportunità di conoscere direttamente dai maestri i segreti dell'arte orafo. Accanto alle tecniche di produzione potrai approfondire le tue conoscenze artistiche e culturali, acquisire strategie di marketing del lusso e progettare gioielli di alta oreficeria utilizzando software grafici e stampanti 3D. Lezioni in laboratori all'avanguardia, partecipazioni a importanti fiere di settore in Italia e all'estero e tirocini in azienda ti consentiranno di sviluppare il tuo talento e alla fine del percorso sarai pronto per entrare in questo mondo. Se vuoi conoscere tutti i dettagli dell'offerta formativa scrivi a orientamentochiocciolagaldus.it e richiedi un colloquio. Scegli oggi il tuo futuro. Fallo con Galdus!